non è anche tempo di staccare che abbiamo cercato il paracelso ovvero Vanhoenheim per scoprire che in realtà era svizzero quindi abbiamo preso una piccola svizzera che ho detto era tedesco che ha questo bellissimo nome perché lo devo leggere io? leggilo tu perché io ti ho provato se è impossibile si chiama Filippus Aureulus Theophrastus Bombastus Fonhoenheim detto per gli amici Paracelsus o Paracelso capito? quindi un altro nome in video lo potevano mettere però detto Paracelso Filippus detto Paracelso Paracelso che non è Parabellum ma non è manco Paraculo cioè vabbè seguiteci iscrivetevi ciao paracelso paracelso paracelso